E' una patria, e per tutti i mesi questa patria è una patria che conta il costo più di un quattro anni voluta. Ciao Rodine, e focolare, focolare della famiglia, focolare degli appunti, adatto al focolato pura, al focolato pura, adatto a cui puoi essere sempre o più in sé. Bravi, 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 super, bravi, 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 bravi. Bravi, bravi, bravi. Grazie a tutti.